Ciao, sono qui a Cabo da Rocca sull'Oceano Atlantico, un posto meraviglioso dove vorrei parlarti dell'ignoto. L'ignoto che ha a che fare con l'esplorazione. Quando tu inizi ad esplorare te stesso, ciò che non conosci e ti lanci verso qualcosa di nuovo nella tua vita, si apre qualcosa di infinito, di sconosciuto, che alla maggior parte delle persone fa incredibilmente paura. Ora quello che ti vorrei dire è che nella vita tutto è ignoto. La sicurezza che tu hai magari costruito e sulla quale ti sei fatto un'illusione, è un'illusione. E quindi vorrei spronarti a fare quel passo tutte le volte che hai paura, perché l'ignoto è incredibilmente affascinante. Ed in realtà tutto ciò che tu non conosci, tutto ciò che tu non hai mai toccato, esplorato, ti permette di sviluppare qualcosa nella tua vita che finora non hai ancora avuto modo di conoscere. E quindi apriti verso ciò che non conosci senza paura, perché tanto tutte le sicurezze sono semplicemente un'illusione e quando tu ti lanci a volte potresti iniziare a volare. E con questo ti saluto e ti auguro una bellissima, bellissima serata. Ciao!